Il giorno 29 novembre si celebra la festa di San Francesco Antonio Fasani. Le messe presso il santuario di San Francesco in Lucera sono previste alle 8, alle 10 e alle 11 e 30 con la partecipazione degli alunni delle scuole della città. Alle 17 e 30 si terrà la solenne celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo di Lucera Troia, Giuseppe Giuliano, con l'animazione liturgica della corale Santa Cecilia. Al termine partirà la processione per le vie della città. Al rientro è previsto uno spettacolo del gruppo sbandieratori Puerapulie. Quest'anno ricorre il 276esimo anniversario della morte del padre maestro, il santo di Lucera, nato nel 1681 e morto nel 1742. Il comitato feste San Francesco Antonio Fasani informa che c'è stato un maggiore contenimento delle spese superflue anche quest'anno e l'intero ricavato della vendita dei panini benedetti sarà devoluto alla missione francescana in Venezuela. Tra le rinunce figurano i fuochi d'artificio.